Ecco, Mauro Lanzoni corsi a 4 Grande tuffo, è già primo La gara ce l'ha in mano lui, c'è il tostile, è roba sua 27.09, passaggio un po' altino Vuole fargli il negativo Vai Mauro, spingi Vai Mauro, spingi Campione italiano, è lui Non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno Potenza assoluta, potenza assoluta 56.95 Va bene, va bene, va bene Bravo Mauro